Mina 2 settembre prosegue la messa in onda su Rai 1 con le nuove puntate in prima visione assoluta. Al centro delle nuove trame di questo secondo capitolo ci sarà anche il giallo legato alla sparizione di Olga, mamma di Gelsumina. La donna, interpretata dall'attrice Marina con Falone, di punto in bianco ha annunciato che si sarebbe assentata per quattro mesi. Perché aveva intenzione di fare un viaggio. Una scelta che, tuttavia, sembra nascondere un segreto ben più grave e che potrebbe portare alla scoperta di un destino inaspettato legato a Olga. Nel dettaglio, le nuove puntate di Mina 2 settembre vedranno la protagonista Gelsumina alle prese con la sua intricata e difficile situazione sentimentale. Ancora una volta l'assistente sociale, interpretata da Serena Rossi, si ritroverà divisa tra Claudio e Domenico. Ma questa volta dovrà arrivare a prendere una decisione. Per tale motivo Gelsumina deciderà di farsi aiutare anche da una psicologa, alla quale chiederà aiuto con la speranza che possa indirizzarla nel compiere la scelta giusta. Tuttavia questo non sarà l'unico grattacapo che vedrà protagonista l'amatissima Gelsumina nel corso delle nuove puntate della seconda stagione. Occhi puntati anche sulle sorti di Olga, mamma della protagonista, che da un giorno all'altro ha spezzato tutti annunciando la notizia della sua imminente partenza. La mamma di Gelsumina, senza dare troppe spiegazioni, ha salutato sua figlia dicendole che avrebbe fatto un viaggio intorno al mondo della durata di quattro mesi. Tuttavia in cambio ha chiesto a sua sorella Rosa di soggiornare per un po' di tempo a Napoli a casa di sua figlia. Così da poterle dare una mano in questo periodo decisamente complicato. Un gesto che non è passato inosservato quello di Olga e che potrebbe portare a un finale amaro in questa seconda stagione. Non si esclude, infatti, che Olga stia nascondendo una terribile malattia a sua figlia e che abbia deciso di allontanarsi perché sa che non le resta tanto tempo da vivere. In queste nuove puntate di Mina 2 settembre, quindi, Gelsumina potrebbe scoprire che sua mamma sta lottando contro una terribile malattia e che i medici non le hanno dato speranze. Insomma, la mamma di Gelsumina potrebbe essere in fin di vita e questo potrebbe essere il motivo per il quale ha chiesto a sua sorella Rosa di stare per un po' di tempo a casa di Mina. Così da aiutarla a superare quello che sarà un momento scioccante della sua vita. Grazie 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 Grazie